Il segreto dell'Argentina è una, nonna, perché la Buela è il più bello del mondiale. Tifosi già in festa, che cercano di caricare il più possibile l'Albi Celeste. È tutto pronto per la finale tra Argentina e Francia, con i tifosi argentini che sperano di vedere Messi alzare la sua prima Coppa del mondo. Riportando in patria un trofeo che manca dal 1986, si sono già scatenati canti e balli per la squadra di Scaloni. Con uno in particolare che sta spopolando sui social e che è diventato uno dei cori più belli di questo mondiale. Mondiali, Maxi Schermi a Napoli per tifare Argentina nel nome di Maradona Abuela. La la la, il coro che sta spopolando in Argentina l'idea è nata da un gruppo di amici chiamato Pibes Deluro. Che si riuniscono per ogni partita dell'Albi Celeste. Dopo il passaggio della fase a Gironi hanno iniziato ad esultare insieme ad una signora anziana. Inventando come coro Abuela, la la la, ovvero nonna. Da lì il video dei festeggiamenti è diventato virale sui social e famoso nei quartieri di Buenos Aires. Con la stessa signora che si è ripresentata per il suo coro dopo ogni vittoria dell'Argentina. E domenica il coro potrebbe avvenire di nuovo per festeggiare la vittoria del mondiale. Virgola. Virgola.